utilizzare il laser per l'intervento di cataratta è sicuramente un vantaggio è un vantaggio perché ci sono delle piccole ma fondamentali manovre all'interno di questo intervento che possono essere effettuati dal chirurgo con risultati eccellenti laddove tuttavia vengono effettuate da un computer che guida un laser facciamo anche paragone con il migliore dei chirurghi il computer ha il vantaggio di essere consistente per cui riesce a replicare ad ogni atto chirurgico la medesima perfezione questo è un grosso vantaggio perché ovviamente nessun essere umano sarebbe ingrato di fare altrettanto ma più che altro consente una standardizzazione dei risultati perché con gli occhi parliamo di micron voi pensate che dal punto di vista del tessuto che rimuoviamo con un intervento laser una diottria di tessuti difetto visivo è pari a 15 16 micron di tessuto mezza diottria è pari a 8 micron di tessuto per cui laddove noi parliamo micron è la precisione a livello del micron che fa la differenza quindi utilizzare questo tipo di strumento ovvero il laser nell'intervento di cataratta consente il controllo totale di questi micron ovvero di ridurre tutto quello che è il caos ovvero il rumore di fondo che può influire sul perfetto esito dell'intervento di cataratta andando quindi innanzitutto ad aumentare la consistenza di risultato ed in un secondo luogo a poterci ulteriormente migliorare quelli che sono i nostri algoritmi di machine learning perché se voi pensate a un sistema di machine learning intelligenza artificiale ma anche una persona che apprende se io fornisco dei risultati che sono consistenti ovvero fatti sempre nello stesso modo il sistema ha un training ha un'educazione di un certo tipo con una certa ripetibilità viceversa se la variabilità dei risultati è data la variabilità della chirurgia tutto questo è reso più problematico pertanto al di là della velocità della maggiore o paragonabile sicurezza del risultato se ci paragoniamo a buon chirurgo è la consistenza e la ripetibilità dei risultati a fare la differenza e laddove noi vogliamo garantire al paziente l'indipendenza dagli occhiali del posto operatorio questo aiuta in maniera significativa